Merda, voglio farlo Se colpisci, ma... Ma? L'avete visto? Non ho capito È clippato Se succede questa roba è epica Hai fatto il glitch che ho scoperto nel 2014 Quando avrete che il king di porri a volte quando esce dalla sua area risalta indietro Ma tipo il balzo in aria e si rimette al centro Se tu lo grabbi frame perfect il frame in cui stanno avendo quel salto Quando lo lanci passa attraverso tutto No cazzo mi sono perso il lunes watch party Eh sì E' nulla adesso è recuperabile Ma che cazzo No, non mi è piaciuto tanto Ciao Bencho, no, non mi è piaciuto tanto